Un saluto a tutti, un saluto a tutte, benvenuti, benvenute, ben ritrovati, ben ritrovati un'altra volta sul canale di Simonetta. Carissimi tutti e carissime tutte, guardate che vi presento, vi presento un carissimo amico, è un pochino seccarello, perché? Perché ha fatto il suo ciclo vitale, lui si chiama Pepper, Pepper, nome abbastanza originale, mi veniva così. Pepper è un peperoncino piccante, è uno dei miei peperoncini piccanti, che adesso se ne sta in casa, in attesa del prossimo ciclo, non so quando sarà, ma comunque non adesso, ma ha dato tanti frutti questa estate, tanti frutti preziosi, sia per la salute, sia per la cucina, sia per l'arte magica. Perché nel peperoncino c'è una potenza meravigliosa, meravigliosa ed è conosciuta anche in Italia, non a caso in Italia c'è il simbolismo del peperoncino, del gobetto, c'è un senso, ovviamente, è chiaro. Allora, in questo video andiamo ad imparare come si fa una protezione e una purificazione assieme, molto effettiva, molto efficace, con un peperoncino o più peperoncini freschi, vivi, nel senso non quelli macinati o in polvere, perché per fare questo lavoro ci vuole, e lo prendiamo gentilmente dal nostro amico Pepper, che ce lo dà, grazie Pepper di tutto quello che hai fatto, ci vuole il peperoncino piccante fresco, quindi fate il possibile per reperirli ancora, nei frutti vendoli, insomma nei negozi, nel reparto frutta e verdura, comprate un sacchetto di peperoncini, poi se li avete ricoltivate tanto meglio, piccanti, piccanti. Allora, questo ovviamente, è anche questo, è un lavoro antichissimo, antichissimo, ed è effettivo, lo vedete da voi, eh? Quindi, ora spostiamo un pochino Pepper, che ci ha già donato abbastanza, e lo mettiamo insieme al suo portavaso, qua. Ci spostiamo, e lo mettiamo qua, il suo frutto, eh? Ci servirà un chiodo, un chiodo, un prego, eh? Chiodo, prego. Chiodo, diciamo, non minuscolo, li avete già visti in altri video, o almeno chi si ricorda. Vergine, nuovo, eh? Per fare questo lavoro, è necessario usare un chiodo non usato, non riciclato. Ci sono lavori in cui possiamo usare chiodi già usati, ci sono lavori in cui è necessaria l'energia di un oggetto nuovo. Ma non c'è problema, eh? Vi comprate un sacchettino di chiodi, oppure una scatolina di chiodi, lo dico sempre, costa un euro, due euro, dir tanto, e siete a posto. Può essere scuro, può essere color acciaio, tanto alla fine sono o di ferro o di acciaio, fondamentalmente. E un peperoncino, nulla di più, nulla di meno. Davanti a noi vediamo delle rappresentazioni, abbiamo Shangò, abbiamo Eshu Trankarua, signor Trankarua, abbiamo Eshu in forma di eleguà, chiamato anche eleguà, eh? Perché Eshu ci aiuterà, il nostro Eshu ovviamente personale, il nostro Eshu che ci accompagna, come la nostra Pomba Gira, personale, in questo lavoro, potenziando al massimo questo lavoro. Quindi, quando voi fate questo lavoro di difesa e di protezione, quindi insieme va sia a rimuovere le forme negative, le energie negative, sia a prevenirle, voi andate a lavorare con il vostro Eshu personale e andate a consacrare questo lavoro al vostro Eshu. Chi conosce già il suo Eshu di fiducia o di nascita, tanto meglio, lo menzioni per nome, può essere, gli Eshu sono tanti, può essere Eshu Trankarua, per dire, può essere Eshu Marabò, può essere Eshu Veludo, può essere Eshu Caveira, può essere Eshu Sieshe Catacombas, Può essere Eshu Mirim, Eshu Tidiri e andiamo avanti all'infinito, eh? Gli Eshu sono tantissimi. Ricordiamoci che al vertice della Kimbanda c'è Eshu Hei, cioè Eshu Re e Pomba Gira Raina, eh? Quindi due Deità da cui poi si diramano tanti altri Regni, tanti altri Eshu, ognuno dei quali ha delle competenze in genere particolari, e anche se tutti hanno la caratteristica, sia il Geshu, sia le Pomba Giras, di essere le nostre guide, i nostri protettori, eh? I nostri apri strade in tante cose della nostra vita. Allora, come si fa questo lavoro? È veramente, veramente semplice, non importa la luna, non importa il giorno, non importa l'orario, lo fate quando volete. L'importante è avere un peperoncino fresco e piccante e un chiodo nuovo. Ho più peperoncini e più chiodi nuovi. Perché? Perché andremo a collocare questo traballo, questo lavoro, questa mandinga, dove? Na janela, nella finestra, eh? Nella finestra, dove, vale a dire, nella parte, cioè noi apriamo il vetro della finestra, c'è, come si chiama? Non mi viene il termine. C'è quella parte, diciamo, di muro e poi generalmente c'è l'altra parte che è lo scuretto, chiamato così, la persiana, la controfinestra, c'è un'altra protezione. Noi andiamo a collocarlo tra le due, le due metà, no? Quindi l'andate a collocare nelle finestre, nelle finestre tra la parte del vetro e l'altra parte. Magari, se volete, mettetelo in un angolino, eh? Perché? Perché questo lavoro non deve essere toccato da nessuno mentre fa la sua funzione, eh? Mentre agisce per voi, per la vostra casa, per la vostra persona, per le vostre energie. Quindi, come facciamo? Noi andiamo a prendere in mano o destra o sinistra, non è un problema, eh, quella, la mano dominante, insomma, mettiamo un chiodo e un peperoncino, eh? Così. E andiamo a stringere il chiodo e il peperoncino e andiamo a salutare, a chiamare il nostro Eshu, eh? Guardiano di nascita o il nostro Eshu di fiducia. Quindi, Potete salutare il vostro Eshu e dite, a parole vostre, così, Eshu, ti offro questo peperoncino e questo chiodo, ti offro questo lavoro, affinché questo peperoncino e questo chiodo, tramite il tuo asce, la tua forza, vadano a distruggere, a bruciare, a bruciare, a queimar, come si dice di nuovo in lingua portoghese, A bruciare letteralmente ogni energia negativa, che sia da provenienza umana, che sia da provenienza di altri piani spirituali. Eshu, ti consacro questo lavoro, portami pulizia spirituale nella mia persona, porta pulizia spirituale difesa nella mia casa, nei miei affari, in tutto quello che volete chiedere a Eshu. A parole vostre fate questa richiesta, cioè fondamentalmente chiedete a Eshu che tramite questi due elementi, lui vada a bruciare, a bruciare, proprio dite la parola bruciare, ogni energia negativa, eh? Ogni energia negativa. Perché lo mettiamo il lavoro poi nella finestra? Perché le finestre, come le porte, sono sia portali umani e sia portali astrali. Quindi, una volta che avete chiamato Eshu, lo avete ringraziato, gli avete consacrato il peperoncino e il chiodo, andate così, semplicemente, a trapassare con il chiodo il peperoncino nella metà. E il lavoro è fatto. Questo peperoncino, trapassato dal chiodo in questo modo, lo collocate nella finestra, eh? E lo mettete in un punto dove nessuno vada a mescer, cioè dove nessuno vada a toccarlo, a... non deve essere toccato, deve stare lì tranquillo. Lo lasciate lì sette giorni e sette notti, eh? Contate sul calendario sette giorni e sette notti. Durante questo periodo, l'energia negativa andrà a condensarsi all'interno di questo frutto, eh? E anche all'interno di questo chiodo, o prego. Cosa fate? Una volta che sono passati sette giorni e le sette notti, voi fate il giro magari delle finestre, perché magari conviene farlo in tutte le finestre della casa, con un sacchettino di carta, magari, un sacchettino, quello che vi pare a voi, o di plastica, eh? Prendete, eh? Tanto non vi succede niente. Prendete i peperoncini, così come sono col chiodo infilato, le buttate tutti dentro il sacchetto e andate a fare il famoso despachio, che si fa nei seguenti modi. Vedete voi qual è il modo per voi più agevole? Allora, un modo è quello di scavare una buchettina nella terra e di seppellire tutto quanto nella terra e ricoprire, girarsi, girare le spalle e andare via, eh? Tranquillamente così. Un altro modo per le persone che hanno la prossimità di un fiume, di un mare, di un torrente, di acqua, che però non sia stagnante, che corra, piccolo, grande che sia, andate e buttate tutto nel fiume, nel torrente, anche a mare, anche perché non stiamo mettendo niente di inquinante, eh? Voi direte il chiodo, beh, il chiodo non credo che succederà niente di incredibile, verrà raccolto da qualcuno e non credo che nessuno si pungerà, anche perché Eshu non permetterà questo. Più che altro abbiamo paura della plastica e dei vetri che stanno nel mare, della plastica è ancora di più. L'altro modo qual è? È quello che voi, col vostro sacchetto pieno di peperoncini, insomma pieno, dipende quante finestre avete, peperoncini chiodati, vi recate a un incrocio, quindi alla famosa incrusilada, incrusilada può essere un'incrusilada a X, può essere a T, può essere a SH, cioè a X, può essere a croce, un incrocio qualsiasi di strade, andate, ovviamente, in un angolino, andate in un angolino, chiaramente non nel mezzo, come ho detto tante volte, tante persone hanno detto, ma come facciamo l'incrocio, si schiacciano le macchine? No, l'incrocio vuol dire andare nell'intersezione, dove le strade si uniscono, andare comunque in un punto dell'incrocio, dove non c'è pericolo, e nell'incrocio, che è il grande luogo di potere, di tante entità, di SH come anche di altre entità, voi abbandonate lì questi peperoncini chiodati, girate le spalle e ve ne andate, ringraziate ovviamente SH ogni volta e vedrete la differenza, carissimi e carissime, che questo è un lavoro antico, 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 efficace, 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 e si può dire a costo zero. Chi vuole poi ripeterlo, ritrovando sempre peperoncini freschi, mi raccomando, per fare questo lavoro, si usa un peperoncino fresco, lo può rifare anche magari dopo un mese, per dire dopo un certo periodo di tempo, se sente un'energia ancora non pulita, o ancora pesante, lo può rifare, ma già la prima volta va a spazzare via tanta roba. Carissimi e carissime, salutandovi ancora, augurandovi sempre il meglio in tutto, e ringraziandovi per la vostra presenza e la vostra compagnia, Laroyeshu, salve Eshu, Eshu, Emojubah, tanta apertura, tanta, diciamo, buona sorte, e ciao, ciao, alla cattiva sorte e alle persone negative, lasciamole nel loro brodo. ascia a tutti e al prossimo video.